Alla vigilia di una doppia trasferta ce l'hanno e scoppito, il Termoli cerca tranquillità. Se i risultati sul campo sono confortanti, due vittorie consecutive, Agnone I e Re Canatese poi, sul fronte societario non ci sono state novità di rilievo. Il presidente Nicola Cesare ha confermato alla nostra emittente che ci sono diverse piste da poter percorrere. Ad oggi però le parti non hanno ancora trovato un accordo economico, quindi tutto tace. I tifosi hanno contestato la società nel post-gara con il Fano. Il loro malumore si percepisce anche sugli spalti. Domenica, in occasione di Termoli Re Canatese, il club ha incassato circa 760 euro, a testimoniare che l'inversione di rotta con i risultati e l'importante vittoria di Agnone non hanno fatto cambiare idea ai supporters giallorossi. La squadra intanto sta preparando la trasferta contro il Celano. La formazione abruzzese deve scontare due giornate di squalifica del campo. Alla base della sanzione, l'aggressione al direttore di gara durante la partita interna con la Re Canatese. Un tifoso bianco-blu gli ha lanciato una bottiglietta d'acqua nel basso ventre. Il club ha stabilito che il match con il Termoli si giocherà sul campo neutro dello stadio Alfredo Barbati di Pescina, in provincia dell'Aquila, a porte chiuse. Domenica sarà uno scontro diretto. Il Termoli a quota 8, il Celano chiude la classifica con la Vispesaro con 4 punti. Mister Cardamone dovrà fare a meno di Ciro Poziello, squalificato per doppia munizione, mentre per gli abruzzesi tornerà in panchina il tecnico Luiso.